Ciao a tutti e ben ritrovati, siamo giunti alla terza lezione teorica del nostro corso di Power Pivot. Resistete ancora a due lezioni che sono comunque concetti importanti, poi sarà tutta pratica e andremo nel dettaglio nello strumento. Allora, oggi è molto importante capire che cosa sono queste due cose, che cos'è lo star schema, cos'è lo schema a fiocco di neve. Allora, qui ho fatto una piccola ricerca nel sito della Microsoft e ho trovato questo articolo che tratta appunto questi due argomenti. Lo tratta in un modo abbastanza ampio, io praticamente ho preso le cose più importanti e ve le ho messe praticamente in un file Excel che poi trovate in descrizione in fondo al video. In file Excel trovate il link, ma anche in descrizione trovate il link dell'articolo se volete andare a fare un approfondimento più dettagliato e più esteso di quello che vi sto per raccontare. Allora, vediamo subito che cos'è, da che cosa è formato uno star schema. Praticamente è una cosa, è un modello che è formato da più tabelle. Quindi la classificazione dello star schema è formato da tabelle in base a dimensioni, dim e fatti, fact. Difatti, se avete seguito il mio corso di Power Query a un certo punto, al posto di mettere i nomi tradizionali, ho iniziato a mettere dim prima di qualsiasi nome e fact prima di qualsiasi altro nome. Quindi quando trattavo dimensioni, mettevo la nomenclatura dim underscore nome tabella. Quando parlavo di fatti, di misure, di cose, come venduto, eccetera, mettevo fact underscore. Allora, andiamo nel dettaglio con tabelle e dimensioni. Le tabelle delle dimensioni possono contenere prodotti, persone, luoghi, tempo e così via. Quindi sono proprio dimensioni, non abbiamo numeri. La tabella più coerente che è possibile trovare in uno schema a stella è la tabella delle dimensioni dati. Proviamo a pensare, noi abbiamo una tabella dei fatti che categorizza le vendite per giornata e ora anche. E magari dopo noi dobbiamo andare a fare un lavoro che facciamo delle aggregazioni per settimana, per mese e così via. Quindi tutte queste informazioni o ce le calcoliamo oppure ci appoggiamo a una tabella che ha già tutte queste dimensioni calcolate. Ok, questo è un esempio. Quindi tendenzialmente la tabella delle dimensioni data è quasi sempre presente in un modello a stella. Una tabella delle dimensioni è costituita da una o più colonne chiave con funzione di identificativo univoco e da colonne descrittive. Allora questa cosa cosa vuol dire? Che praticamente quando io faccio una tabella, vediamo questo è lo star schema, vedete in centro ci sono i fatti e poi attorno ho tutte le tabelline delle dimensioni. Allora star schema prende appunto da questa configurazione. È un modo di dire, uno star schema può essere formato anche da due tabelle, una dei fatti e una delle dimensioni. Una dei fatti oppure due delle dimensioni. Quando comunque ci sono fatti le dimensioni staccati diventa appunto uno star schema. Quindi è importante poi quando andiamo su power pivot poter fare la relazione tra le due tabelle perché devono poter comunicare. Ok, tra poco ci entro anche un po' nel dettaglio su sta cosa. Quindi ogni tabella deve avere le sue chiavi. Tabelle dei fatti possono contenere osservazioni o eventi, ad esempio ordini di vendita, saldi azionari, tassi di cambio, temperature eccetera. Quindi tutte misure che andiamo a inserire all'interno della nostra tabella. Una tabella dei fatti contiene colonne chiave di dimensione correlate alle tabelle delle dimensioni. Cosa significa questa roba qua? Significa che come vedete nello schermina qua, ok, abbiamo la tabella di dimensioni sulla destra. In centro abbiamo la tabella dei fatti, quindi qui abbiamo il nostro campo chiave che ci permetterà di comunicare col campo chiave che sta sulla tabella dei fatti. Quindi sulla tabella delle dimensioni tendenzialmente si avranno tutte dimensioni, non ci saranno misure all'interno di questa tabella. Invece nella tabella dei fatti, oltre ad avere le nostre misure, abbiamo anche tutte le dimensioni, quindi tutti i campi che ci permettono di relazionarci con tutte le altre tabelle di dimensioni. Quindi avremo la chiave di giunzione per ogni tabella più poi tutte le altre misure che ci servono per fare i nostri calcoli. Quindi andando avanti, il numero di colonne chiave di dimensioni determinano la dimensionalità della tabella dei fatti. Quindi appunto il numero dei campi chiave che ci permettono di comunicare con tutte le altre tabelle di dimensioni mi determinano la dimensionalità della tabella dei fatti. Quindi da qui capiamo se abbiamo 10 campi che sono chiave di dimensioni, significa che probabilmente intorno abbiamo 10 tabelle da linkare. Il numero di valori chiave di dimensioni, quindi i valori all'interno delle nostre singole dimensioni, determinano la granularità della tabella dei fatti. Ad esempio, considerando un campo data, se le misure dei fatti vengono riepilogate per mensilità, la granularità sarà mensile. Quindi quando noi calcoliamo la tabella, andiamo a decidere come creare la tabella dei fatti, dobbiamo decidere con che granularità portarci dietro l'informazione. La tabella dei fatti avrà sempre la granularità massima della nostra informazione. Invece le tabelle delle dimensioni, le dim, avranno dei dati aggregati, ok? Quindi qui noi avremo sempre una situazione di molti a 1, tendenzialmente la regola è questa. Poi ci sono molti altri casi, però la regola tendenzialmente è questa. Perché qui andiamo a ripetere le dimensioni n volte quanto lo richiede la nostra granularità, in base anche al numero di dimensioni, di tabelle dimensionali che abbiamo intorno, ok? E quindi potrebbe essere che noi abbiamo la granularità per data, per giorno, e quindi abbiamo n righe quanto è dettagliata la nostra granularità. Però ad esempio se abbiamo la granularità per mese, ok? E poi andiamo sulla tabella delle date, qui abbiamo tutte le altre informazioni di data. Quindi se ci vogliamo tirare fuori la settimana, ok? Ce la tiriamo fuori, però qui abbiamo un dato aggregato. Invece se avessimo la settimana dentro la tabella dei fatti, contribuiremo ad avere una tabella dei fatti molto molto più grande. Adesso dopo ve lo spiego ancora un pochino meglio sto concetto. Le tabelle delle dimensioni contengono in genere un numero di righe relativamente ridotto, che era quello che vi stavo dicendo in questo momento. Le tabelle dei fatti, al contrario, anche questo ve lo accennavo, possono contenere un numero molto elevato di righe e continuano a crescere nel tempo. E questo noi stiamo registrando delle vendite e noi in questa tabella continuiamo ad avere record che entrano tutti i giorni. Entrano, entrano, entrano. Però le tabelle anagrafiche, che alla fine sono tabelle anagrafiche quelle che contornano qui, tendenzialmente restano statiche, a meno che magari non abbiamo un nuovo cliente da mappare, allora la tabella che riguardirà i clienti verrà arricchita con un nuovo record. Però rimane sempre stretto il dato. Ogni oggetto visivo del report è generato da una query che viene inviata al modello. Quindi questo cosa significa? Che qui ogni tabella, come avrete visto già dal modello da Power Query, significa che io per creare questa tabella ho creato una query. Allora, se lavoriamo con Power Query, noi facciamo un import, che il consiglio che vi do sempre è mai importare le tabelle, le fonti esterne da Power Pivot stesso. Passate sempre per Power Query, che è molto più stabile. In più, se passate per Power Pivot, avete il problema che se dopo magari dovete fare una trasformazione di qualche tipo, non potete più passare per Power Query, perché se lo fate, praticamente si distrugge tutto il lavoro che fate a Valle. Invece, se passate per Power Query, anche solo per fare un import, e poi la passate direttamente a Power Pivot senza fare nessun tipo di calcolo, è il sistema migliore, così se un domani dovete fare per qualsiasi motivo qualcosa, lo potete fare. Al contrario, ripeto, con Power Pivot, se importate direttamente lì, significa rifare tutto il file da zero. Quindi, qui abbiamo una tabella di dimensioni, significa che su Power Query avremo una query. Abbiamo una tabella di fatti, su Power Query avremo un'altra query di fatti, e così via. Quindi qui abbiamo cinque tabelle dimensionali e una di fatti, significa che su Power Query avremo come minimo sei query. Queste query vengono usate per filtrare, raggruppare e riepilogare i dati di modello, essenziali per un modello ben fatto. Ok, questo è importante. Questa progettazione è ideale ai principi dello star schema. Le tabelle delle dimensioni supportano il filtraggio e il raggruppamento. Le tabelle dei fatti supportano la generazione di riepiloghi. Allora, noi qui dobbiamo andare a fare dei riepiloghi. Quando noi utilizziamo la tabella pivot, ok, non vediamo mai la tabella per intero, non vediamo un dato esploso, vediamo sempre dei riepiloghi delle informazioni che vogliamo analizzare in quel momento. Quindi con la tabella di fatti andremo a fare dei riepiloghi delle nostre misure. Invece con le tabelle delle dimensioni, che appunto supportano il filtraggio e il raggruppamento, andiamo a fare un raggruppamento delle informazioni. E poi, andando ad utilizzare DAX e a fare misure, possiamo andare a creare delle misure custom e fare dei filtri con le informazioni che troviamo nelle tabelle delle dimensioni, dove abbiamo un dato aggregato. Il tutto fa funzionare questa cosa qua nel modo ottimale ed è molto molto veloce. Una relazione tra modelli stabilisce un percorso di propagazione dei filtri tra due tabelle ed è la proprietà cardinality della relazione a determinare il tipo di tabella. Adesso lo capiamo meglio, che ve l'ho anche già accennato. Una cardinalità di relazione comune è uno a molti, quello che vi dicevo prima, quindi uno a molti. Vedete, quando vedete supporto POT e tirate il join tra una tabella e l'altra, dove vedete l'asterisca significa che la chiave è ripetuta n volte. Invece dall'altra parte tendenzialmente vedete sempre un 1, ok? Significa che lì la chiave è univoca, quindi il nostro join per funzionare in PowerPivot deve essere molti a 1, dai fatti molti alla tabella dimensionale 1, quindi alla tabella dimensionale è sempre importante avere la chiave di join in modo che mi riporti dei record univoci per quel valore là. Il lato 1 è sempre rappresentato da una tabella di tipo dimensione, mentre il lato molti corrisponde sempre a una tabella di tipo fatto, che è proprio quello che vi ho appena spiegato. E questo è lo schema di come funziona, ok? Il dato va da qua, noi abbiamo i fatti, andiamo a leggere le informazioni delle dimensioni e ce le portiamo dentro nella tabella pivot. E infine è importante comprendere che la progettazione di un modello, questa è una cosa bellissima, in modo ottimale è una questione di scienza ma anche di arte. Talvolta è possibile deviare gli standard quando ha senso farlo. Qui parlando di modellazione è un po' come la grafica, come fare una scultura. Non c'è una scienza esatta, dipende tanto da quanto siamo abili noi ad entrare un po' nella logica del dato e a cercare di immaginare come poterlo fare funzionare al meglio. Quindi in questo senso è visto un po' come un'arte, perché quando cominciamo a trattare tanti dati o a trattare tante informazioni, andiamo a costruire un progetto che deve funzionare al meglio. Quindi dobbiamo decidere, aspetta questa dimensione, la metto sui fatti, faccio una tabella piatta, faccio tre tabelle dimensionali, ne faccio dieci, ne faccio cinque, cosa devo fare? E qua sta tanto nella nostra abilità riuscire a capire come creare queste cose qua. Quindi è anche una questione di arte. Anche poi quando andremo a fare le misure, quando andremo avanti col corso e capirete un po' come creare, e le potenzialità delle misure, come fare le loro potenzialità, vedrete che anche in base a come si crea lo starschema, ad esempio, ma anche attraverso una tabella piatta, possiamo fare le formule in mille modi differenti. C'è quella che va più lenta e c'è quella che va più veloce, quindi dobbiamo essere molto abili e bravi a capire il sistema migliore di utilizzare le cose. In questo senso è un'arte che, dal mio punto di vista, è molto bella. Le dimensioni a fiocco di neve. Allora, è un set di tabelle normalizzate per una singola entità aziendale, ad esempio classificazione di prodotti per categoria e sottocategoria. Le categorie vengono assegnate alle sottocategorie e i prodotti vengono a loro volta assegnati alle sottocategorie. Allora, vediamo un esempio sotto. Qui abbiamo in fondo la fact table che appunto dicevamo che abbiamo la granularità massima. Poi abbiamo una chiave che entra in una tabella dimensionale, ok? Per poter usufruire di alcune dimensioni. Quindi qua abbiamo un altro tipo di granularità che è inferiore a quello che sta in basso della fact table. Poi qui abbiamo delle dimensioni che si ripeterebbero. Difatti è stata fatta un'altra tabellina delle dimensioni qui dove c'è appunto la chiave che entra. E poi magari abbiamo delle dimensioni che su questa tabella andrebbero a essere ripetute riga per riga. Quindi hanno fatto un'altra tabella di dimensioni. E da qui un'altra ancora. Ok? Ad esempio qui l'English Product Category Now Name che magari ci sono 10 record. Qui magari ce ne sono 100 e qui magari ce ne sono 10.000 e qui magari ce ne sono 100.000. Se io queste due tabelle qua, quella di sinistra e quella di destra, le avessi messe tutte qua, al posto di avere queste 6 colonne ne avrei avute 3 in più. 2-3 in più. Però abbiamo detto che questa qui ha 100.000 colonne, 100.000 record ad esempio e questa ne ha 10.000 e 1.000, ok? Quindi queste qui hanno un peso decisamente inferiore. Se io mettessi queste informazioni dentro qua avrei sì 3 colonne in più come già ce l'ho qua, anzi risparmerei addirittura la chiave quindi avrei meno colonne. Però ho le informazioni che continuano a ripetersi per tantissimi record e questo va ad appesantire il modello. Adesso questo non è un sistema molto efficiente, cioè funziona, però bisogna fare attenzione. Difatti qui vi ho messo delle note. Quando si sceglie di simulare una progettazione delle dimensioni a fiocco di neve, ok? Per andare al risparmio massimo sulla compressione del modello del dato, ok? Power BI carica più tabelle, ok? Quindi abbiamo più query perché ogni tabella ha una query. Il che è meno efficace dal punto di vista dell'archiviazione delle prestazioni, ok? Lui archivia e presta un pochino meglio, un pochino peggio. Le tabelle devono includere colonne per supportare le relazioni, quindi quello che vi dicevo. Se io vado a fare uno scalare di questo tipo, mi devo creare la chiave in più, quindi ho un campo in più che mi devo portare dietro. Adesso qui ci sono pochi campi, ma se ne abbiamo tanti potrebbe avere un senso. Per supportare le relazioni tra modelli e ciò può comportare un aumento delle dimensioni del modello. Appunto, se abbiamo, tipo questo è il caso, che abbiamo solo un campo, non ha un grande senso da qui a qui fare questa cosa, a mio avviso. È necessario attraversare catene di propagazione dei filtri delle relazioni più lunghe, che probabilmente saranno meno efficaci rispetto ai filtri applicati a una singola tabella. Però questo significa che quando noi da qui andiamo a creare una misura e dobbiamo prenderci il valore che sta su questa qua giù, dobbiamo fare un giro un po' più lungo e quindi potrebbe essere poco efficace. Il riquadro campi presenta più tabelle del modello agli autori del report. Questo può comportare un'esperienza meno intuitiva, soprattutto quando le tabelle delle dimensioni a fiacco di neve contengono solo una o due colonne, che è quello che vi dicevo. Se hanno solo una o due colonne non ha molto senso utilizzarlo. Questo dei campi cosa significa riquadrare i campi? Quando noi facciamo una pivot e andiamo a vedere la selezione dei campi da trascinare all'interno delle pivot, noi vedremo una, due, tre, quattro tabelle. Poi facciamo clic sul più e ci escono tutti i campi che sono dentro a tutte queste tabelle qua. Quindi più tabelle dimensionali mettiamo con questa catena qua e più diventa meccanico più difficoltoso per l'utente capire come tiro giù il campo dopo funziona o non funziona perché ovviamente dovete costruirle in modo tale che poi l'utente possa utilizzare le varie informazioni in modo compatibile perché se le funzioni sono fatte bene oppure tirate giù una misura dopo ne tirate giù un campo può succedere un po' di pasticci. Quindi è un sistema per aggregare ulteriormente il dato però è un po' delicato è molto complicato. In più non è possibile creare una gerarchia che si estende sulle tabelle perché la gerarchia si crea quando abbiamo la nostra informazione ok abbiamo il valore A e dopo abbiamo la nostra granularità che esplode A A A A e poi abbiamo Pippo Pluto Topoline eccetera ok allora potrei creare una gerarchia di questa cosa qua invece se le informazioni le spacco in più tabelle la gerarchia decade perché ovviamente la A ce l'ho nella tabella superiore in modo da aggregarla spero di essermi spiegato quindi questa cosa qua può essere interessante ok io la uso pochissimo però può succedere perché magari avete tante informazioni in tanti campi e vale la pena a volte fare una seconda query di dimensioni per alleggerire il modello e riuscire a farlo funzionare ovviamente questa tipologia qua di modellazione io la consiglio più che altro quando ci sono tanti record e effettivamente Excel magari inizia a fare un po' fatica e allora dovete cercare di comprimere le informazioni al meglio ve l'ho fatto vedere perché ritenevo importante mostrarvi anche questa cosa qua quindi molto velocemente riepilogando lo star schema ok non è altro che un sistema di creare di fare una modellazione dei nostri dati ok dividendo le informazioni non più da una singola tabella piatta contenendole tutte là che dopo può essere che diventi gigantesca e ogni volta che accodiamo un'informazione di venduto o qualsiasi altra cosa si ingrandisce sempre di più ok in questa configurazione se abbiamo queste informazioni che non abbiamo tabelle fisse ok e che si ingrandiscono lo star schema è importantissimo è essenziale si deve assolutamente utilizzare questa metodologia di lavoro quindi veramente tabelle che si ingrandiscono dobbiamo separare le dimensioni e mettere le misure in una singola tabella questa cosa qua ci vuole un po' ad entrare un po' nella mentalità anche di come costruirlo di come farlo funzionare però non è neanche poi così tanto complicato adesso la microsoft se andate a leggere l'articolo dicono che è un articolo per esperti però pian pianino nel corso spero di riuscire a farvi entrare un po' di più nella mentalità di questa cosa qua bene con questa lezione è tutto spero di non essermi dilungato troppo di non avervi annoiato troppo come sempre se la lezione vi è piaciuta lasciate un like iscrivetevi se non lo siete già e ci vediamo al prossimo video a presto ciao ciao